Siamo nell'occasione della restituzione di un importante strumento musicale, il violino Giuseppe Rocca del 1861 che era stato oggetto di furto qui nel 2012 e in sostanza in questi anni è stata svolta un'attività investigativa molto complessa e articolata anche grazie alla collaborazione dello stesso conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo, nostra e dell'arma territoriale di Palermo Grazie anche alla capabilità e alla professionalità dell'autorità giudiziaria siamo riusciti a instaurare il procedimento penale con una raguatoria internazionale in Germania che purtroppo non aveva avuto gli esiti sperati Successivamente intanto le indagini erano proseguite e nel 2020 abbiamo approfittato della presenza del violino qui a Palermo perché doveva essere utilizzato durante un concerto qui appunto a Palermo per sequestrarlo e chiedere appunto la compatibilità del sequestro che è stata data dalla tutoria giudiziaria poi da lì in poi ci sono state diverse controverse giudiziarie con le controparti che ovviamente riferivano che non si trattasse del violino che invece era oggetto di ricerca in realtà poi le perizie e le consulenze da parte degli esperti musicali che avevamo contattato siamo riusciti a dimostrare che si trattasse del violino che stavamo cercando Oggi è una giornata storica per questo istituto quando mi sono insediato nel 2012 la prima cosa che ho fatto anche su sollecitazione di alcuni colleghi che conoscevano già, avevano sentito dire della sparizione di un nutrito numero di strumenti musicali ho presentato una denuncia appunto all'arma dei carabinieri fortunatamente riuscendo a ricostruire anche di che strumenti si trattava grazie alla documentazione fotografica che il professor Renato Meucci organologo di fama internazionale aveva raccolto alla fine degli anni 90 in conservatorio quindi dall'elenco degli strumenti mancanti insieme alle fotografie si è riusciti a ricostruire di quale strumenti si trattasse a seguito della denuncia il nucleo tutela patrimonio culturale dell'arma dei carabinieri di Palermo ha iniziato delle indagini molto serrate che hanno portato poco tempo dopo al recupero di quattro strumenti e oggi finalmente si restituisce al conservatorio lo strumento che forse era il più importante di quelli conosciuti di questa collezione il Giuseppe Rocca del 1861 Un momento storico per il nostro conservatorio Alessandro Scarlatti dobbiamo ringraziare i carabinieri della tutela patrimonio culturale che sono riusciti dopo una lunga storia di oltre 20 anni a portare nuovamente da noi un violino di grandissimo valore Adesso stiamo costruendo un museo per questi violini per questi strumenti di grandissimo valore e saranno ovviamente protetti con un sistema di sicurezza che impedirà che in futuro potranno succedere questi episodi